Ogni giorno sette miliardi e mezzo di cuori battono all'unità. Tutti si muovono. È come un tornado di piedi e di mani, di risate e di lacrime. Chi sale e chi scende, bagaglia la mano. Chi arriva affrettolosamente o chi aspetta lì, già da tanto tempo. Il sangue di tutti gli uomini è rosso, eppure nessuno è uguale ad un altro. Ognuno porta in sé il respiro del creatore, la sua impronta, il suo dono. Ognuno a modo suo. Uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli, ha detto Gesù. Tutti figli dello stesso padre, che tutti ama. Siamo tutti nati per amore. Ognuno cammina con il suo sogno e il seme di Dio nella terra della sua vita. Così alcuni si fermano e vedono gli altri con lo sguardo pieno d'amore. Anno gli occhi e le mani di Dio. 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 Anno gli occhi e i rem Reservi colleghi. Ma cosa cosa senza uno si più comprare o con un clic, la generosità, la acogida, la ternura e la comprensione profunda all'occhio. Chiudal sarà veramente questo. Ressffrer in pronounced il misterio dal под cui. E dedicarsi all'occhio sin la rosa. Ognuno cammina con dentro un sogno tutto suo Un dono prezioso e unico nel grande disegno che Dio ha su ciascuno di noi Che solo tu puoi scoprire, coltivare, rendere reale e donare E' un seme piantato nella terra fertile della tua vita Che deve diventare impegno responsabile, vocazione alla santità Farlo crescere è il compito di tutti Per costruire un mondo nuovo di gioia e pace condivisa E' Gesù, cari ragazzi, cari paesi, cari amici e amici Che suscita in voi il deseo di fare qualcosa di grande con vostra vita La volontà di seguire un ideale Il rechazzo a deixarsi devorare per la mediocrità Nella frenesia della vita che scorre attorno a noi Oggi, ogni giorno, c'è sempre qualcuno che rimane ai margini Che temporeggia sulla soglia della vita in attesa di una nuova promessa di felicità Ad aspettare che qualcuno si accorga di lui per condividere il calore della vita Che spalanchi le braccia come il crocifisso Ripeta il grido di Dio Io ti voglio bene Per sempre, in eterno e ad ogni costo Perché i santi hanno gli occhi e le mani di Dio Elegire la santità non è mai impossibile La santità non è un qualcosa più facultativo O un logro solo per alcuni È la vita plena Secondo il progetto E il don di Dio È, per tanto, un cammino che permette Esperimentare la propria umanità E la di altri La santità Già forma parte di ti Debes solo darle il tempo E il spazio Para florecer Abbi il coraggio di sporcarti le mani Di scommettere sul tuo talento Proprio lì dove sei Perché è lì che Dio ti chiede di essere santo La dedizione al lavoro La cura delle relazioni Il servizio agli altri L'amore verso la famiglia La cura della vita interiore Sono il volto luminoso e quotidiano della santità A loro si deve la luce che c'è ancora in questo mondo Cada uno dei nostri santos, beati, venerabili, siervos di Dio Lleva in si mismo una caratteristica Che forma parte di sua storia Entre questi 46 sono Jóvenes santos e beati De nostra famiglia salesiana Una llamada a la santità Che passa a través del ejemplo del mismo Don Bosco Che nos invita A soñar con él Nuestra felicidad Plena En Jesús La vita di Don Bosco Ha sido una continua búsqueda Del sueño di Dio Di Dio Un disegno Rico di colori E di rasghi Fuerti Però anche Con lacrime Con herida E con il cansancio Di molte noche di insomnio Don Bosco Entendio Che il Signore lo chiamava Per una vita Dedicata A tutti A tutti i giovani E comprende Che questa era Su felicidad Diceva Uno solo il mio desiderio Quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità La felicità è il sogno di ogni giovane Oggi Domani Nel tempo Un sogno grande Ma così delicato e fragile Che merita cura e attenzione Spesso ci chiediamo Perché tutto ciò che è bello deve finire Il mondo non può prometterci il per sempre Dio sì Nel tempo e nell'eternità È Lui che cerchiamo quando sogniamo la felicità È Lui la bellezza che tanto ci attrae Solo Lui ci vuole bene Per sempre In eterno e ad ogni costo Questa è la porta della casa di Don Bosco E quanti giovani avranno passato per questa porta? Quanti giovani in tutto il mondo avranno passato per puertas come questa? Nostra famiglia salesiana È presente in 134 nazioni In Mongolia In Papua, Nova Guinea In Mozambique In Ecuador In Argentina In Messico In Sri Lanka In Silone In Guajati In Hong Kong In Hong Kong Per tutti i siti Puertas sempre abiertas Con alguno che acoge con i mesi brazi abiertos Entrar in una delle tantissime casas di Don Bosco De nostra estensa famiglia salesiana È, sempre, un momento único Un'agrazione Un'agrazione In la vita De mille e mille De muchachas De muchachos De jovenes De Nain Gesù Grita al joven De Nain Muchacho A ti te digo Levantate E Grita Sobre todo Para invitar A superar El tremendo ruido Del mundo Grita Porque Espera Decisiones Valientes Fuertes Para una vida realizada Más plenamente Buenos cristianos Y honrados ciudadanos Así es como Don Bosco Ha traducido Esta invitación Fuerte De Jesús En este patio Don Bosco ha mirado A los ojos A Domingo Sabio Un encuentro de miradas Miradas más que palabras Un simple momento De total confianza Yo soy el paño Y usted Don Bosco Sea el sastre También vosotros Mis queridas muchachas Muchachos jóvenes Son Como ese buen paño Que fue Domingo Sabio Un paño Que habla De tanto futuro De tantos sueños De tantas posibilidades Les invito A dejarse trabajar Por las manos expertas De buenos astres Que como Don Bosco Madre Mazzarello Variara Y tantos Fundadores De grupos De nuestra familia Salesiana Han querido dedicar La vida A todos ustedes El resultado De este trabajo Será de verdad Un excelente Trabajo De primera calidad De santidad A los ojos de Dios La santidad Está aquí Al alcance De la mano No es una Una meta Que no se pueda Conseguir No pide Aislarse Del mundo No pide Renunciar A los afectos A la simpatía No Esta No es Santidad La santidad Para nosotros Consiste En vivir Una alegría Que viene De lo profundo Ser santos Significa Vivir Muy plenamente Sorprenderse Cada día De la belleza De la vida La santidad No te hace Menos humano Tampoco Evita La cruz Pero es El encuentro De tu debilidad De mi debilidad Con la gracia De Dios Miguel Magone Besuco Y Domingo Sabio Fueron acompañados Justamente En este patio En este pórtico En ese camino De descubrir Su santidad Cada uno Con su particular Originalidad Con el toque propio El juego La oración El estudio Las cosas De cada día Como un tiempo Precioso Donde Don Bosco Ha podido También Con ayuda De la gracia Realizar Los mejores prodigios La santidad Es una misión En favor De los otros Como Como Mamá Margarita Y esto Pide Empeño Y cuidado De uno mismo Pero sobre todo De aquellos A quienes tenemos A nuestro lado Essere santi Significa Crescere Como un grande albero In cui Scorre la linfa vitale Di Dio Que produce E fa maturare frutti speciali Amore Gioia Pace Pazienza Umanità Cari giovani Ho promesso a Dio che la mia vita Fino all'ultimo respiro Sarebbe stata per voi In ogni momento della mia vita Ho cercato di farvi sentire sempre amati Nulla per me è stato più importante della vostra felicità Abbiate il coraggio di essere felici Essere felici E riconoscere che vale la pena vivere la vita Nonostante tutte le sfide Incomprensioni e periodi di crisi Essere felici è ringraziare Dio ogni mattina Per il miracolo della vita Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti È rimanere saldi Nel ricevere una critica anche se ingiusta Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi Libera, gioiosa e semplice E avere la maturità per poter dire Mi sono sbagliato E avere il coraggio di dire Perdonami E avere la sensibilità per esprimere Ho bisogno di te E avere la capacità di dire Ti amo Non mollate mai Dio ha messo un angelo accanto a noi Non rinunciate mai alle persone che amate Non rinunciate mai alla felicità Perchè la vita è uno spettacolo incredibile Don Bosco Don Bosco Queria sempre Una vid Debajo De su ventana Le ricordava Su terra Sus colinas Però Tambien Las palabras De Jesús Para crecer La vid Necesita ser Robusta Le fa falta Un soporte Fuerte Y María Se lo había dicho a Don Bosco Debe ser Humilde Fuerte Y robusto Quizà Quizà Como con esta vid Agarrada fuertemente A las paredes De Baldoco Tambien nosotros Por medio de Don Bosco De los fundadores De los grupos de familia salesiana Pero especialmente De todos Los santos Santas Beatos De nuestra familia salesiana Todos nosotros Todos nosotros Estamos Muy agarrados Enraizados En Jesús Quizà La tentación Es La de Rendirse Y puede ser Una tentación fuerte A veces No vemos el fruto De inmediato Es posible Que en silencio Las cosas puedan ir creciendo Poco a poco Debemos saber esperar 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 Nuestra estación Estación Que es La de la esperanza La primavera Vuelve siempre Y la estación de Dios Siempre es cierta Y seremos santos O sea Felices Para la eternidad Pero Nunca caminando En solitario Siempre Unidos Porque La santidad Es también Para ti Y 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 para mí Para todos nosotros Y para ti 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 Tenemos la Y para ti Y para ti Te Tutor Y para ti Grazie a tutti. Grazie a tutti.